La militare che supporta da anni ormai la sezione ritmica davvero da tantissimo tempo, non solo le farfalle della squadra nazionale ma arruolate ci sono anche appunto Alexandra Agiorgiuculese e Milena Baldassari. Posizione estremamente originale per l'inizio di questo esercizio alle clavette che ci gustiamo in rigoroso silenzio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.